Che ci sia più comunicazione con la base, perché al momento stanno decidendo tante cose a Roma e sembra che ci sia parecchio disinteresse per i circoli locali. Ci sono già formato le piccole correnti che non servono, ma il radicamento di tutte le cose sta si lasciando. Mi aspetto delle proposte alternative a quelle del governo Berlusconi e anche delle proposte che interessano il paese. Grazie. 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 gli operai sono andati un po' a destra, abbiamo i datori di lavoro, specialmente dove lavoro io, i miei datori di lavoro votano a sinistra e ciò gli operai purtroppo che votano per Rusconi, di questo io non ne posso più, giusto. Mi auguro che questo partito contribuya fermamente, sia un partito che possa avere una visione di grandi orizzonti, non di piccoli settori, abbia ampio respiro, sia un partito accogliente, sia un partito non discriminante, sia un partito per la gente, con la gente. Un ottimo inizio, mi auguro che anche ai vertici del partito arrivino queste voci, la gente comune, la gente qualsiasi come me, che poi non sono proprio qua comunque perché ho un ruolo amministrativo, comunque assolutamente di base in una realtà piccola, che arrivi comunque la nostra voce, la nostra voce è di presa di coscienza anche di una fisionomia, una fisionomia che si accornava. Perchè non ho fiducia più di nessuno è l'unica che mi è rimasto per troppo. Se fallisce questo io me ne vedo.